Quindi per noi ha un valore affettivo e speciale, chiamerei qui Carla e poi voleva dire due parole al Presidente della LITER e vi lascio la parola. È molto difficile, è molto difficile perché Dante non a caso era un amico, un amico come tutti voi, però un amico visto poche volte mi è rimasto subito nel cuore. Quindi è inutile dilungarsi, per me è difficile parlare in questo momento di Dante, però Dante è con noi, fra noi e ciò l'ha dimostrato molte volte. Io farei un altro applauso a signora Carla e a Dante. Non sono lui, voglio dire solo grazie e consegnare questo premio che è un ricordo ancora più importante. Grazie. Grazie, non riesco a parlare. Al terzo posto per la compagnia dagli estrieri Valdum, Mencarelli Doriano. Grazie. 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 Al secondo posto la compagnia dagli estrieri di Amelia, Alagna Alberto. Al primo posto la compagnia dagli estrieri... Scusate. Contrade, San Paolino, Luca, Francesco Finello. Bravo! 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 Presidenteitu, Lorenzo... Servizio a tutti, come donne a voi! Scusate mpoint. Uf flectione di San Paolino. Flavio a tutti. Scusate mpoint. adesso mi dico prima di mandare gli ultimi saluti bravissimo tutti insieme a fare la foto sotto il tabellone vai Francesco complimenti bravo bravo l'ho vista che è grande oh 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 mi posso toccare giù a te signore no con la videochiamata grazie